Ragazzotti, Hakuna Matata, ben ritrovati dal vostro Cerciocamare89, regà, è il 25 e sono le 12.10, questo video ipoteticamente lo vedete per l'1.40 Subito un bel pollicione in su, subito un bel commentino se vi fa di supportarmi, regà, benvenuti in un nuovo video di Brawl Stars Vi porto in quello che è Brawl Stars, tranquilli, adesso vado a sistemare la cam Allora ho visto un sacco di aggiornamenti, tanto è vero che il gioco fino adesso non era per l'appunto giocabile Perché stavano sicuramente facendo un bug fix da quello che so io Allora andiamo un attimo a sistemare la cam e mi voglio mettere un pochettino più di là così vi rompo il meno possibile le scatole Allora, negozietto bello, vi ricordo che se mi volete supportare tante volte sul negozio andando tutto a destra Potete inserire il codice CiccioGamer89 Ora, 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 abbiamo un po' di robetta da vedere innanzitutto Andiamoci a prendere questa qua che non mi sembra affatto male Il tempo che chiarica e che capisce quello che vuole fare il gioco Ci andiamo a prendere anche il raddoppia punti esperienza Che pure questo non è male Regà, mi raccomando un commentino o un bel pollicione in su, eh Non so perché sono andato qui Ragazzi, che fai? Non te lo prendi il pack da collezionista di Brock e andiamo a sbloccare il suo overdrive Regà, lo dobbiamo fare per forza Cioè, per forza, anche perché devo dire che con Brock non è che gioco male Cioè, ho roba dove potrei giocare molto peggio E come avete visto c'è stato un momento di lag bello, bello Regà, sta facendo un po' quello che gli pare il gioco Non capisco bene perché Brock carissimo L'overdrive ce l'abbiamo Fa delle cose incredibili La skin di Brock mi fa un pochettino cacare Sono molto belle anche queste Ci può stare quella Quella là io eviterei Questa qua Sapete che c'è? Non mi dovete mandare le richieste di amici Non mi dovete rompere le scatoline Allora, classificata È classificata sì Perché l'altra volta io volevo fare in realtà le missioni, raga Però non le ho fatte Perché ce ne ho veramente, veramente Veramente troppe, forse Forse ce ne ho troppe Andiamo a farci una bella classificata, regà Subito un bel pollicione in su Che Dio ce la mandi buona Allora, ovviamente Dato che stiamo in rapina E non ci sono nessun modificatore Non c'è nessun modificatore in atto Regà, qua Brock può essere veramente interessante Cioè, Colt ci sta Ah, ecco Vedi, per esempio Non abbiamo bannato lui E lui sarà quello che ci punirà malissimo, ragazzi Il trenino Thomas Ci va a massacrare Purtroppo è così Non è detto totale Dobbiamo essere molto bravi a tenerli indietro Eh Pure quello sarà Regà, la partita è difficile Non c'è niente da fare Comunque dico e ripeto Poi non lo dirò più Perché mi sto un po' stancando Io non Non voglio passare per quello forte A Brawl Stars Io mi voglio Semplicemente divertire Lo sapete che per assurdo Sono contento Per assurdo sono contento Qua è buono di nuovo Brock Volendo Per assurdo sono molto contento Del No, io l'ho bannato Teso, teso, teso Regà, l'ho visto dopo Che l'aveva preselezionato Vi giuro L'ho visto dopo L'ho visto dopo L'ho visto dopo L'ho visto dopo Eh, io Esatto Mi vorrei prendere questo Non l'ho fatto apposta Ovviamente Dicevo, regà Non voglio passare per quello forte Perché non lo sono Mi voglio semplicemente divertire Su Brawl Stars Poi Vabbè Voi vi divertite con altre cose Però Di base è quello Ehm Ok Ah, io dovrei portare su coso Quello con l'occhio Con l'unico occhio Non è il segno degli anelli Ma quell'altro Vediamo un po' se parte Sta parte Ragazzi Non riescono A partire Cioè Proprio non Cioè La gente sta acquittando Anche è vero che sto in leggende 2 Se non erro Però, regà Neanche a far così Cioè Io capisco che uno Sta bello intenzionato Bello cagliardo Ma Fischia, regà Mamma mia Ragazzi Vi giuro Non Riesce a partire Una singola partita Cioè O c'è un bug Incredibile Perché al momento di piccare Non piccano più Boh Vabbè Dai che forse 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 Non è detto Ma questa partita parte Cioè Non Non lo so Non lo so Non lo so Allora Non lo volevo prendere Spike Mi è stato consigliato Ripeto Io parto sempre dal presupposto Che quelli che stanno Giocando Allora, regà Io che vedevo di Io incrocio le dita 10 secondi E se nessuno Quitta Siamo pronti A perdere una partita In realtà Non è per forza Detto Bibi può essere Un problema Sì Perché Che bella Tancosetta Incredibile Stiamo giocando Una partita Vi dico Sono già Sono già contento Così Vi posso dire la verità Sono già contento Così De perderla E Va bene Minchia Sto giocando Con persone Forti Però Ragazzi Però Bibi Per me Può essere Un problema Effettivamente Parlando Esatto Se mi dai Una mano Io Non era la mano Che intendevo Ovviamente E quindi Devo lasciare Un attimo qua E do una mano A lei A fare Qualche punto Ok Posso dire Peccato Eh ragazzi Io Ci posso provare Quanto volete Ma Mi risulta Un po' difficile Mamma mia Che bella Ulti Che bella Ulti Eh ragazzi Dynamite Santo Dio Dynamite Bravo Cioè Che ti devo dire Bravo 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 E Bibi Ci sta facendo Un po' il culo Dico la verità Bibi Ci ha fatto Un po' il culo Regà Ditemelo Se ho sbagliato Qualcosa Io a un certo Momento Contro Cosa Me la stavo Giocando Anche bene Bibi Non Forse Forse Il pick Di Birrin 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 Borri Non mi sembra Così Così Buono Cerchiamo Di Ragazzi A me Mi serve Una mano Su Lei Perché Non gli posso Fa niente Io Cioè Neanche Di Io Sto fermo Qua Cioè Che devo Fa Io Qualche Dannetto Ripeto Eh Sì Basterebbe Basterebbe Fare Dei danni Nel senso Che Che devo Fa Davvero Ragazzi Non Non So Come Cavarmela Sta partita Vada Conquisto Io Anche Se Non Credo Mamma mia Che Dito Nel Culo Lei Non Può Avvenire Bibi Qui Eh Infatti Non Può Avvenire Bravissimo Dynamike Che Devo Dire Bravo 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 Dynamike Ah Stanno tutti Qua Capito Eh Dynamike Sta facendo Il suo Dovere Vabbè Fazienza Ragazzi Ci abbiamo Provato Che vedevo Di quanti Assisti Ho fatto 2 4 Neanche Tantissimi 3 5 3 3 5 2 4 E Ci hanno Semplicemente Disintegrato Dai Dai Però Che brutto Vede scende Così tanto Mamma mia Ok Forse Parte un'altra Partita Incrociamo Le dita E Se riusciamo A vedere Anche L'overdrive Di Brock Non sarebbe Male Non sarebbe Male Non sarebbe Male Stiamo sempre Tranquilli Stiamo sempre Calmi Quello che succede Succede Non ci posso Fare niente Io più che dare Sempre il meglio Di me E sperare Di fare qualcosa Di buono Che possiamo Fa Ok Lui non vuole Far vedere Il suo grado Io me ne vado A sinistra E vediamo un po' Contro ci abbiamo Contro ci abbiamo Tick Che può essere Un bel Un bel problemino No Peccato perché Bene Aio Vedete Per esempio Il mio Che ha pushato Così Aveva senso Secondo voi Secondo me No Il problema Occhio Occhio Zii Non so come Cavolo Difenderti Anzi Ma porca Troia Eh ragazzi Ma io sono morto Eh Ma quello Non ha visto La bomba Contro Dick Non posso Fare niente Ragazzi In questa Mappa Qua Non posso Fare niente Che miseria Ragazzi Eh ragazzi Il problema È che qua Niente Raga Non posso Dai A parte gli scherzi Va benissimo Così Va benissimo Così Dai Me l'accollo Non è che Non me l'accollo Me l'accollo Me l'accollo Dick Sta giocando Benissimo Cosa che Secondo me Stu Come si chiama Sta giocando Un po' troppo dietro Cioè dovrebbe Pushare un pochettino Di più Secondo me Perché quello lì Per esempio Il corvo Non sta facendo niente E mi sembra Che sia anche Un dato di fatto Un dato di fatto Ok Ragazzotto Bello Ok Il mio ci provo Ragazzi Il mio ci sto provando Tanto 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 Vedi Poi c'è sta Quello Che sta Fermo Il corvo Regà Non dico Che me lo sto Mangiando Ma Tanto Siamo proprio Proprio Pressati Regà Eh Quindi Purtroppo È vero Regà Con i random Non si può fare niente Non si può fare niente Con i random Niente 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 Vabbè Regà Io neanche Me posso Arrabbiare Quindi Va bene così Signori Spero che il video Vi sia piaciuto Al prossimo appuntamento Il vostro Di Cepro89 Ricupereremo In un altro Momento Regà Bella Ciao Ciao